Salve, sono l'avvocato Gwendal Cecovini Amigoni. In questi giorni fa notizia una decisione europea che impone il pagamento di una tassa lici non pagata dalla Chiesa e dagli enti no profit. Cerchiamo di capirla assieme. Si tratta di una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, un'istituzione che ha il compito di far rispettare a tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione Europea i trattati internazionali, cioè gli accordi dell'Unione Europea. Quando uno Stato non rispetta gli accordi, la Corte di Giustizia interviene e fa in modo che in tutta l'Unione Europea vengano applicate le medesime regole. In questo caso la Corte di Giustizia è intervenuta con riferimento ad una tassa italiana, l'ICI, l'Imposta Comunale Sugli Immobili, che esisteva dal 2006 al 2012. Essa colpiva i proprietari di immobili, fabbricati o terreni situati in Italia. Nel 2006 l'Italia ha stabilito che questa tassa non dovesse essere pagata dalla Santa Sede e dagli enti no profit che nei loro immobili esercitassero attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale. In pratica la Chiesa e gli enti no profit se destinavano un loro immobile ad un'attività commerciale, ma ne riservavano una parte ad un'attività non commerciale, non dovevano pagare la tassa sull'intero immobile. Per capirci meglio, se verso una via c'erano due alberghi identici, uno di privati e uno, ad esempio, della Chiesa, e quest'ultima riservava una cappelletta alla preghiera, ebbene non doveva pagare l'ICI. E' evidente che così facendo lo Stato italiano aiutava uno dei due alberghi, il che non si può fare. Nel 2012 l'ICI è stata sostituita da una nuova tassa, l'IMU, ma rimane scoperto il periodo dal 2006 al 2011. Si tratta di circa 4 miliardi di euro l'anno, cioè di 20 miliardi di euro. Cosa dice la Corte di Giustizia dell'Unione Europea? Il problema che si è posto non è se l'esenzione fosse o meno giusta, essa non andava bene ed è stata tolta. Tecnicamente era un aiuto di Stato illegittimo. Il problema è come individuare oggi chi all'epoca avrebbe dovuto pagarla e in quale misura. E' recuperare i quattrini. Ha sostenuto l'Italia, è assolutamente impossibile sapere oggi, a distanza di anni, quali superfici venivano destinate ad attività commerciali. Ma l'Europa non fa sconti. Con la decisione della Corte di Giustizia l'Italia è ora obbligata a rimboccarsi le maniche e trovare una soluzione. La sentenza non dà tutte le risposte, ma indica i principi da seguire per rimedio ad un errore del passato. Sarà interessante vedere quali saranno gli sviluppi. Salve!